L'Asticella si è alzata ancora di più questa sera a Trento contro il Napoli, cosa ti è piaciuto della tua squadra? Come è stata in campo, come si è aiutata, come ha sofferto e come ha corso, perché ha corso bene, di fronte aveva un Napoli con un gran palleggio, con grande qualità, però il che aveva tenuto bene il campo si è applicato, i ragazzi hanno dato tutto quello che avevano e questo è importante per me. Con la data di oggi finisce ufficialmente il periodo di ritiro estivo, puoi tracciare un bilancio su queste settimane di lavoro? Chi ha visto gli allenamenti ha visto tantissime doppie sedute, quindi sicuramente credo che tu sarai soddisfatto di come hanno lavorato. Sì, diciamo che il volume del lavoro è stato intenso e ampio, quindi è normale che anche sulle gambe avessimo meno brillantezza, però io sono contento di tutti, hanno fatto un ritiro alla grande, si sono impegnati, hanno faticato e pian piano adesso troveremo la condizione, eviteremo di fare più doppi, quindi andremo anche a trovare un po' di brillantezza che ci serve. Infine, la prossima partita, se è possibile la sticella, se non si alza ancora di più, rimane comunque altissima perché c'è la sfida internazionale contro l'Offenheim che vi aspetta il 4 di agosto in Austria. Sì, è una bella esperienza, è un bel test come è stato quello oggi con il Napoli, sono due squadre di ottimo valore, due squadre che faranno la Champions League, quindi per noi è un metodo di giudizio, è una possibilità di valutare un parecchi ragazzi, valutare l'organico e vedere.